Il pubblico si vede molto poco per l'anno, quindi io spero che questa presenza possa essere sempre più attiva, perché le iniziative ne facciamo tantissime e speriamo di averli spesso con noi. Ringraziamo i regatori che si parleranno di un'iniziativa su Vavere Colpiti, di nuovi personaggi di spicco dell'Argonsidenza Parese, di Cattolico, e voglio dire soltanto due cose, poi lascio subito a provo. Voglio ricordare che da quei 27 agosto saranno 70 anni che la nostra città è stata liberata dall'unitazione nazifascistica. Quella mattina del 1944, con l'arrivo delle truppe militari agliate, precedute dai polachi della divisione Carpazzi e grazie al contributo delle formazioni partigiane, i tedeschi preceduti dai fascisti scappavano già verso nord e i nostri concittadini, molti scollati, cominciavano a tornare lentamente alla ripresa della città e della libertà. Così recitava la prima parte di un manifesto pubblicato dal Comitato di Liberazione Nazionale di Fano, affisso pochi giorni dopo. Fano saluta l'alba della sua nuova vita, dice la sua gioia e la sua riconoscenza agli angloamericani, che in fraternità di armi e di cuori col corpo di liberazione italiano, con le brigate da rivali delle marche, con i gruppi d'azione patriottica e con tutte le altre organizzazioni attivistiche, hanno posto termine alle sostenenze e alle ansie di un'intera popolazione che ha aperto la via alla nostra rinascita. Esulta i successi della gloriosa Armata Rossa, rivolge un pensiero reverente ai caduti della lotta antifascista e della lotta partigiana, che hanno dato sangue alla patria. L'ampia oggi tiene a dire che questa memoria è intatta, nel ricordo di coloro che ci hanno lasciato, durante il periodo fascista e nel ricordo di partigiani e partigiani che hanno perso la vita allora e dei tanti antifascisti che l'hanno perduta nei campi di concentramento agli stranini. La contigliamo questa memoria, con attenzione e cura, ma non vogliamo che sia privilegiato di ricordo, pur vigile, rispetto alla conoscenza e alla informazione, cioè alla vera memoria, che non può essere fatta di soli riti e celebrazioni. Allora, non solo colonne e cibi alle dati, presenti in tutte le dati che non possono essere dimenticate, ma cercando di aumentare la riflessione e la conoscenza, soprattutto con i giorni, ai quali ben pochi insegnano e spiegano cosa è avvenuto in quegli anni, che cos'è stato il fascismo e cosa è stata la resistenza. Non dispiacere l'armia, ma senza rassegnazione, dobbiamo dire che il fascismo non è affatto morto. Anzi, i riduci di questi ultimi mesi ci indicano la strada da perseguire come ampia, quella di insistere sulla diffusione della cultura antifascista a tutti i livelli di cittadinanza. Per questo ringraziamo sovrasamente il sindaco e la nuova giunta che abbiamo ottenuto, un assessorato con una dialega alla memoria. La presentazione pubblica di libri, film, incontri con partigiani, magistrati, filosofi, uomini di cultura, storici, docenti universitari, giovani registi, cinematografici e di teatro, oltre alle numerose associazioni di cittadinanza attiva, hanno costituito in questi 36 mesi di visa della sezione Leda Antinori il pane quotidiano dell'armi fanese, che lavora per ricostruire e difendere la memoria partigiana e il suo loro determinante della storia della seconda guerra mondiale. E lo fa nel corso intero dell'armi, rendendo dati come il 25 aprile e il 27 agosto non birra retorica, ma impegno costante per 12 mesi. Profonda e doverosa anche la nostra attenzione alla politica odierna, che conferma insostituibile ruolo dell'Ambi e della nuova resistenza dei partigiani del terzo delegno, alle scelte spesso discutibili e poco democratiche e costituzionali dei nuovi esibitivi governativi a tutti i livelli. Perché il lavoro fosse svolto in maniera più efficace, non potevamo che essere presenti nelle scuole e grazie all'impegno e alla collaborazione di tanti e tanti insegnanti e pazienti preparate e monterose, abbiamo iniziato un percorso sulla cultura della memoria e dell'antifascismo nelle scuole medie e inferiori, parlando insieme ai ragazzi e ai loro docenti di un periodo storico, quello della resistenza, troppo spesso trascurato dai programmi ministeriali, partendo dalla data del 27 agosto del 44, che quest'anno ci porta a festeggiare il centattesimo anno di organizzazione di famiglia. E proprio in questa occasione, incontrando i giovani delle scuole, abbiamo dato vita a un concorso di idee che i ragazzi hanno sviluppato attraverso dei loro disegni, dei loro grafici, che abbiamo raccolti in questa pubblicazione, e sono idee per la realizzazione di un monumento ai partigiani di famiglia di famiglia, a tutti i partigiani, al gesto che i partigiani famiglia e le partigiane famiglia hanno fatto durante la guerra di liberazione. Questo è un volume che noi distribuiremo a tutte le scuole nel prossimo mese di ottobre, che potete comunque visitare e vedere la vostra, sarà dal 27 di agosto al 3 di settembre alla sala San Michele di Famiglia. Grazie e buona luce. Grazie Paolo per questa intituzione. Per me, io, a noi, anche nel ciclo maritano, voglio ringraziare l'ambito di Paolo, che ci ha stimolato a partecipare a questa iniziativa che vuole ricordare il periodo molto importante della nostra storia, come già stato detto, 70 anni della liberazione della nostra città. Chiaramente è superfluo dire che rappresenta un momento, diciamo, molto importante per la storia democratica dell'istituzione, perché segna il passaggio da uno Stato monatico e fascista ad uno Stato repubblicano e democratico. E poi si partecipa delle iniziative come questa sera, c'è sempre un rischio, il rischio è quello di parlare della resistenza guardando al passato. Certo c'è anche un esercizio di modo storico che va a fare, ma la scommessa, penso, di conti come questa sera è quello di poter, in un certo senso, riflettere sui valori che sono scartoliti dall'esperienza legati alla resistenza, quindi i valori della competenza civile del nostro Paese, sia da un punto di vista sociale, politico, che etico, e avere, voglio dire, anche l'entusiasmo e la determinazione per guardare questa esperienza alle nuove generazioni. Già quando sono entrato ho fatto una battuta, siamo tutti un po' con i capelli bianchi, no? In parte io, cioè, però, perché ho fatto la resistenza, grazie a senatore di capelli, no? E' anche vero però che c'è questa, diciamo, questa, questo, devo dire, supplemento di responsabilità che l'hanno, tutte le associazioni che considerano questo momento storico così importante, quella scommessa, di narrare l'esperienza presidenziale alle nuove generazioni, magari con più entusiasmo, certo capire, ripeto, guardare di resistenza è possibile, guardare al passato, risulta, guardare al futuro della nostra città e del nostro Paese. Questa sera affronteremo il tema del rapporto tra cattolici e resistenza, no? Non poteva affrontare in tanti argomenti. C'è stato chiesto di portare un contenuto da questo punto di vista, visto voi sapete che il rapporto tra resistenza e il santo tempo territorico è proprio articolato, il santo tempo territorico per la sua natura è articolato per sensibilità molto diverse, per carismi diversi, e quello che sarebbe interessante questa sera è capire qual è stato il contributo durante la resistenza, ma soprattutto capire anche quale è stato, in un certo senso, come l'esperienza della resistenza è stata raccontata successivamente alla resistenza, qualcuno è stata tradotta nella prassi politica e sociale quei valori che sono statuniti dalla resistenza. E per fare questo, questa sera appunto, non vogliamo fare semplicemente un percorso storico astratto, ma lo vogliamo fare raccontando anche la testimonianza di Valerio Pini, che è stato, diciamo, un partigiano, un esponente cattolico della nostra città, scrittore, sergista, un gruppo intellettuale di Primo Piano, è stato direttore dell'Osservatore Romano, sia con il Papa Paolo VI, sia con il Giovanni Paolo II, quindi ha avuto un buono, come voglio dire, anche, diciamo, tramite la chiesa italiana, e con la scrittura della Santa Sede di Primo Piano. Quindi vorremmo, diciamo, raccontare la sua esperienza e cercare di condire questi, diciamo, tratti, che, come dicevo, che secondo me sono particolarmente importanti. Per fare questo abbiamo invitato Ernesto Preziosi, alla mia destra, attualmente molti di voi già lo conoscono, è il parlamentare dell'OVT, è stato per tanti anni responsabile dell'Azione Cattolica, e in particolare direttore dell'Istituto Paolo VI, che nell'ambito, potremmo dire, dell'Organizzazione Cattolica Italiana, ha un conto specifico, quello di, voglio dire, studiare la storia dell'Unimento Cattolico, e quindi, in un certo senso, mettere in evidenza quali sono stati gli aspetti principali. Quindi, ad ammesso a questione oggi abbiamo chiesto di, diciamo, pedellare, di darci una inquadratura di quello che è avvenuto a livello nazionale. e gli diamo venti minuti, venticinque minuti, venti, venticinque minuti. Poi, abbiamo invitato il professore Ernesto Guccioni e Castone Moshi, invece di portarci una testimonianza diretta, appunto, sulla persona di Gregor Colpini, che, fra l'altro, per l'occasione, devo dire che sono stati bravissimi, hanno anche presentato due vicini, hanno preparato due vicini che presentiamo questa sera per l'altra volta, uno è dedicato a Gregor Colpini, appunto, con degli brani, con degli scritti suoi e personali, e uno è dedicato a Gregor Colpini, per il suo internovantesimo copriano, che siamo ottenuti nel 16-12 del scorso, ancora in vita, lo stesso partisano fanese. Quindi, loro partiamo da questi due marchetti, che presenteranno, diciamo, il rumoro di un gruppo di amici, che hanno avuto in questo momento storico così importante. E quindi, abbiamo con noi anche il Presidente dell'Ampi Provinciale, Giuseppe Scherpiani, che farà l'intervento, farà le conclusioni di questo incontro, e quindi tradurrà anche un po' l'assimo. Ringrazio la presenza anche dell'Assessore Samuel Scrin per la sua presenza, è anche un segno particolarmente importante che l'attuale ambizione comunale abbia dedicato un Assessorato alla memoria, e penso che la presenza di Samuel questa sera, vuol dire, dimostri non solo un'attenzione formale, ma, diciamo, anche un'attenzione sostanziale. Poi nel dibattito, magari, ci sarà la possibilità più di terminare. Detto questo, scusatevi se abbiamo fatto un po' di tempo, passo tutta la parola ai messi in questo momento. Bene. Molto volentieri, dico qualche piccolo passato, faccio qualche piccolo passato sulla vicenda della Resistenza, sulla vicenda dell'apporto dei piacoli c'è la Resistenza nazionale, provando a dire anche l'utilità e l'attualità di questa parola e di questo concetto anche nella storia civile presente. Sicuramente la parola Resistenza ha la necessità di essere risignificata anche nel presente, perché ha una vicenda storica e storiografica di un certo tipo nel dopoguerra. dopo l'enfasi di quel momento di celebrazione, che ha visto un punto di convergenza e di evita anche molto ampio, anche nelle materie culturali che in quel momento erano presenti nel Paese, ha conosciuto due fenomeni diversi, per sé diversi contraddittori, ma legati tutti e due alla situazione politica, così come si andava evolvendo nel nostro Paese. Da un lato c'è stata quasi una propria azione, la sinistra socialcomunista è diventata quasi l'unica protagonista della memoria del protagonismo della Resistenza, e dall'altra, chiaramente a dare sostanza ad una minoranza rispetto a quella che fu poi la separazione, dopo il governo Padri, anche della comune gestione del bene comune, della cosa comune del Paese. E dall'altra parte, in un caso speculare e diversa, la democrazia cristiana e gaspediana, per motivi differenti, in maniera di comunque, ha il consenso necessario alla governabilità del Paese in quel momento, un consenso che si andava ad avvalere anche di una parte di quella maggioranza del consenso che il regime aveva avuto, e che non era un consenso prezzamente e esplicitamente fascista, quello si sciolse con negli anni della resistenza, con la liberazione, e fu presente in modi diversi, anche mentre la crisi stessa della sinistra è assoluta in alcune presenze famose, anche di militanza, di intellettuali e di quant'altro. Ma in quell'area larga, di consenso, che era stata il suo regime, le felici non a casa, aveva coniato proprio con queste espressioni, i cambi del consenso, a dire una cosa vera, che era stato un fenomeno, dove non era una visione totale, non era una visione ideologica, non era una visione approfondita, perché il regime aveva una superficie che il regime sapeva coltivare molto bene, lo diciamo così così, lo diciamo nel metodo di attualità, grazie ad una forma di comunicazione ma dell'arte e intensiva, che la regime sempre operale, dalle radio rurali, alle forme di utilizzo della scuola pubblica e quant'altro, per cui una parte inconsistente del paese era stata una parte di consenso, non si era resa conto che dietro i miti retonici della riconquista dell'impero, della recupero della romanità e quant'altro, dietro le allegorie, che portavano a cantare in maniera semplificata e anche però rettabile, chi muore per la parte non muore, si andava preparando un conflitto, si andava preparando una espansione antistorica, peraltro anche nel momento in cui era niente, coloniale, fatta attraverso le feratezze, che solo nella seconda parte, nel secondo dopoguerra, sono state portate anche dagli storici, era arrivata dalla conoscenza nazionale, che effettuano i due regime, pur nella edulcorazione un po' lettoica, di un regime meno astro, meno violento, meno totalitario di quello nazista, perciò proprio questo regime, un regime a tutti gli effetti, secondo le violenze, che in maniera contorta, in maniera contorta, si celebreranno, e daranno vita anche ad altre efferatezze, nel segno diverso, nel regolamento dei conti, che seguirà la liberazione. Pagine difficili, e proprio per questo, siccome pagine difficili e divisive, quella parte di consenso governativo, preferì quasi lasciarle in disparte, regalarle in omaggio, alla parte di opposizione, che se ne è proprio in termini immatici, se ne è proprio come gesto politico, ma che di fatto, diventano l'unica depositabile della resistenza. E se pensate a questa parola, che non mi posso soffermare, ma molto importante, per capire perché, mi spiego anche questo tema di oggi, perché i cattolici non hanno rivendicato la loro parte di presenza nella resistenza, è legata a questa evoluzione politica, in qualche misura. E quando negli anni, fine sessanta, o sessantosa, eccetera, la resistenza, in quel periodo, tornò in qualche modo in alto, con parole, anche svuotate volte, dal significato reale del Presidente, ora è sempre resistenza, che era comunque uno degli sguoni, anche della contestazione, e così via. Puri in quella fase, ci fu come una presa di distanza, una presa di differenze, rispetto alla componente cattolica. Allora per questo dico, siccome quella resistenza, non è un fenomeno di parte, non è un fenomeno che possiamo regalare, o, peggio, ridurre, e marginandolo, ad una sola parte del Paese, ma è un punto costitutivo, di quell'ethos che è condiviso, che ha dato vita a questo Stato democratico, è un punto condiviso, è un punto condiviso, è un punto condiviso, è un punto condiviso, che ha dato vita alla carta, e costituzione di questo Stato, c'è bisogno da parte di tutti, per la dimenticanza, e per l'obbligo, indominabile, che si è generato negli ultimi decenni, rispetto alla resistenza, ma c'è bisogno, ancora di più, per la componente, culturalmente, di ispirazione cristiana, teatologica, di questo Paese, di riappropriarsi, in qualche modo, della resistenza, rivendicando, non un ruolo esorbitante, che non sarebbe neppure vero, storicamente, come sembrano di spiegare, ma rivendicando la partecipazione, a tutti gli effetti, a un movimento di liberazione. questo è un punto, è il primo punto che volevo mettere, come riflessione, no? Per primo punto, storico e politico insieme, che comporta una riflessione, sulle necessità, che a volte la politica impone, ma anche sugli obbligli della storia, che vengono motivati, da dinamiche politiche, e che poi lascia scoperto, un aspetto che deve avere, quello della memoria storica, da quello della vita comune, delle basi comuni su cui riconoscete, su cui costruire insieme. Al di là della retorica, ma è l'approfondimento delle pagine della storia. Il secondo punto dovrebbe essere questo. Allora, quale fu questa componente cattolica e perché, in cosa si caratterizzò, in cosa si differenziò, rispetto alla pagina più complessiva della resistenza. La resistenza è il fenomeno, come sapete, nasce spontaneo, e poi sempre più organizzato, all'indomani dell'8 settembre, di tutti a casa dell'8 settembre, rispetto alla fine, di una possibilità che lo Stato, di allora, chi incarnava la realtà dello Stato, cioè, la morattia, il governo, in qualche modo, seduto da Badoglio, l'esercito, che era rimasto, in una certa misura, fedeltino, alle pagine drammatiche, di quelle tutte trucidate, a Cefaloni e altrove, per questa fedeltà, ad un comando supremo che non fu capace di gestire questo comando dell'inverno di mediazione militare, del pesciamento dei fronti, come sappiamo, nasce in quei mesi, nasce in quei settimane, nasce in quei giorni, e nasce sulla difficoltà. La resistenza è importante perché è il fenomeno che ha aiutato migliaia di italiani, gradualmente, a prendere coscienza di quello che era stato effettivamente il fascismo, di quello che stava comportando come prezzo una ferra, non solo come sconfitta militare e di potere, imperiale e quantale, ma quello che stava comportando come morti, come distruzioni, come utili nella vita delle persone. Qui la pagina traumatica è la pagina che sgridola la retorica di chi muore per la patria e non muore. Non era un bel soldatino biondo che andava, salutava con i fazzoletti sul muore, ma era una gattolina che ti arrivava a casa e si diceva che questo le dimostrano e non usciera tu. Era tuo padre, era il tuo fratello, era il tuo franzato, era il tuo marido da poche settimane, non c'era più. Era finito. E le bombe alleate che distruggevano, che siamo così in territorio, come dicevo la stasera con la conferenza Fattarini, il 82% delle case distrutte, non di passaggi per le mie cose. Cioè, parliamo di dati grandi, fornissimi, che lasciavano le loro conseguenze per decenni sulla vita delle persone, sulla felicità, sulla stabilità della vita delle persone. Allora, che cosa muove questa resistenza? C'è una mozione del GLN del 7 ottobre del 43 di Milano. Oggi la carità di patria ci impone di far da genere un insentimento che possa costituire ostacolo alla più completa unità degli italiani contro l'oppressore. questa frase riscrive molto bene questa cosa dell'esistenza. Sobbire, spegnere quelli che devono essere conflitti anche di culture, di esperienze diverse, di appartenenze, di storie diverse. Sobbire quelli che devono essere i confronti anche istituzionali sul futuro, rimandati ad un futuro momento di decisione, in cui sarebbe un referendum istituzionale e un'archia repubblica, e mettere insieme tutti sulla carità di patria, dice il CLN. Io uso questa citazione al CLN perché ricorda un aspetto che sta dietro la motivazione anche di tanta parte della resistenza cattolica. Per capire la resistenza cattolica bisogna capire che la resistenza non fu solo, e qui un punto storiograficamente discusso e anche vessato in questi anni, non fu solo fenomeno militare. La resistenza non fu solo fenomeno militare. Cioè non furono resistenti solo coloro che presero le armi e andavano a combattere. C'è una frase, non sospetta, di una simpatica persona che era Rego Goldrini, che notava come se in un esercito normale il rapporto tra combattenti e tutti che aiutano i soldati è di uno a sette, in un esercito normale, cioè per ogni combattente sono necessarie sette persone addette ai vari servizi, nella guerra partisana il rapporto è almeno di uno a dodici, di uno a quindici, per cui intorno ad ogni patrilota lavoravano 12 o 15 persone, in maggioranza 12. Questa frase ci aiuta a capire perché la resistenza fosse un mondo più grande. Io ho detto che non lo posso affrontare, uno dei nodi storiografici più importanti cioè il tema della resistenza. Fu o no guerra di popolo, fu solo guerra di elite, riuscì a coinvolgere la gente. E su questo riuscire quel modo della gente si è un descrivere della differenziazione anche di impostazione culturale e morale tra la resistenza di ispirazione cristiana e quella di ispirazione marxista. Ma il punto di partenza è che ci fu questo amore più ampio attraverso quello fatto traumatico che fu la guerra, attraverso il fronte che avanzava in Italia, attraverso le cartoline delle morte che avvenivano a stare in grado, alzichiatò oltre, si incridò un consenso e la gente gradualmente cominciò a prendere coscienza. Io ho fatto sotto in conto gli studi di tipo storia orale, intervistando tanti personaggi di quel periodo dell'area storica per capire, e quasi tutti mi dicevano ma sai che non abbiamo capito niente? Cominciavamo a capire gradualmente che qualcuno aveva capito su Pesaro, Erio dei Biasi aveva capito, ma lo cominciò a spiegare a qualche altro. E poi solo generalmente, mi diceva qualche protagonista, perché non è che si fidava di lui, era anche pericoloso spiegare alcune cose che si facevano o che andavano facendo, no? Magari andando lungo il foglio in bicicletta a ricopiare su una cartina topografica le impostazioni, no? Piccoli, non è lotta, ma fu l'esistenza, fu un arrescimento di fronte, fu la presenza di consapevolezza che bisognava cambiare qualcosa in questo stato che ci aveva portato a questa distruzione immane, irreparabile, tale era la morte, quale sono le distruzioni? Allora c'è in questa carità una carità diversa che si indesca. Qual è la base morale, motivazionale dei credenti rispetto alla resistenza dei 43 giudici? non è una base ideologica, non è una base della militanza politica, il Partito Popolare era stato sciolto, il Popolare erano rimasti della loro consapevolezza, ma piuttosto torpidi in un torpore non certo parallelo e imparagonabile a quello che era stata una certa parte della sinistra che si era clandestinamente organizzata, aveva mantenuto una forma di organizzazione anche nella sua dimensione internazionale con strumenti di stampa e quant'altro. Sono due motivazioni diverse. Molti ripetatori ci vengono da un'area non di fascismo, ma di fascismo, qualche esempio è interessantissimo. alcuni grandi partigiani di legislazione cristiana vengono dalla parte ufficiale dell'organizzazione del regime ma una gran parte è il consenso che si sgretola, cioè un consenso che diventa in maniera diversa nuova consapevolezza sul disegno del paese e lo fa in virtù di una formazione morale, non biologico-politica, ma di una formazione morale. Il nucleo forte è quello della formazione data nell'azione cattolica di quegli anni. L'azione cattolica come dice l'uso di candidati storici contemporanei è una funzione impermeabilizzante rispetto al regime. Non formò ad avversari regime ma fu impermeabilizzante perché alternativa i bisticci del tradituto sul distintivo, sulle sedi, sul partecipare alla pre-militare o alla non pre-militare perché l'azione cattolica in virtù di un articolo nella norma nel concordato nel 1929 era l'unica organizzazione che aveva potuto mantenere un assetto organizzativo della gioventù e i regimi, tutti i regimi puntano sulla gioventù. Ma pareggi passate alla patutata io, nel senso che il rinnovamento si fa solo con i giovani, temo perché ho anche la debolezza anche nei giovani riferita alla categoria del rinnovamento. tutti i regimi tutti i regimi puntano sulla gioventù. E allora su questo e allora su questo allora su questo io sono così interessato a spiegare come quella motivazione fu una motivazione formativa dentro quei gruppi non si faceva formazione antifascista ma si faceva formazione sociale cioè quello che fece ingregnare il consenso del proprio fascismo fu il concetto di persone, la dignità della persona, dei giovani comunità filtrati in forma popolare la patriciata che era detto così per Polvini perate e la maritena la moniere i grandi pensieri che attraverso Montini attraverso la fuci arrivava anche da noi ma quello che arrivava a livello popolare era un livello chi l'ha studiato ha leso onore a questo aspetto ci farebbe sorridere se non lo spieghiamo bene dire che era un livello d'intrusico cioè i grandi reduni eucaristici i grandi reduni momenti popolari erano momenti aggregativi in cui si manifestava una potenza una capacità organizzativa una capacità di mobilitare le masse a prescindere dall'adesime a differenza dell'adesime e dove anche attraverso il linguaggio popolare dei canti dove voglia Dio che nostro padre voglia Dio che nostro re ci dicevano la legalità diversa perché il cuore si andava radicando intorno ad altri valori che erano d'amori religiosi ci fu questa carità che non fu improntata a finalità politiche e come dire ideologiche ma che di fatto nella parola fece saltare questo quadro e la gente si mobilitò perché questa resistenza fu un'esistenza che dovevamo vedere nella sua larghezza i 12-15 che dicevano Boldrini tutto il fiancheggiamento quanti ho conosciuto i rivistenti Ezio Franceschini che non hanno preso le arti perché Ezio Franceschini allievo di concetto marchese che aveva una militanza presidio che diceva io rispetto al mio maestro mi limitai a fabbricare documenti falsi per gli ebrei però le schiandola bella avevo anch'io una pistola nel caso di Dio ma era schiavrica c'è anche questo aspetto poi ci fu anche Chiadotte che ha preso le arti ma ci fu tanta parte che fu anche un fiancheggiamento l'aiuto e il sostegno quante riunite celebre fatte nelle parrocchie ma senza che Nini appunto con Boldrini diventerà lui cattolico lui presente dell'azione cattolica presidente del CLN di La Venna della rossa roma di La Venna e perché le riunite le facevano in episcopio l'unico punto dove sicuramente la polizia fascista non poteva andare a presentare e non le facevano in episcopio per un disegno politico alternativo al fascismo le facevano in episcopio perché la mancanza di Vindelda stava soffocando perché aver portato la morte allo spazio del paese stava vedendo odio a reazione e ci fu questa grande capacità di concorrere in maniera diversa a una resistenza virtuale e le motivazioni furono se posso dire lo dico storicamente non religiosamente religiose spirituali cioè nascevano da una visione diversa di persone e si incontrava e si scontrava con posizioni diverse cioè la pagina bellissima in realtà che spiega molto bene la differenza rispetto alle altre staglie nelle impostazioni di quei compagni di sinistra che vedevano nell'attentato no? una possibilità di creare una mobilizzazione della gente e nessuno potrebbe mai creare una premessa perché delle persone in erbe che vengono uccise anche se questo lo avevo significato un po' di immobiliazione di far diventare guerra di popolo e quindi di patrie e qui si ricaceva Tommaso Moro con un'altra visione culturale ma si per collaborare insieme nella distinzione c'è una differenza profonda ma un'unità profonda questa carità di patria che univa e in ucce si comincia ad avere la possibilità di un diseguo di una patria comune liberata la parola stessa della democrazia attraverso i ragazzi di Pio XII nel 43 nel Natale 43 nel Natale 44 sul nuovo ordine internazionale entrava nel Magistero e non è un caso che anche a Fano l'osservatore romano che riportava i testi di Pio XII si è sequestrato dalla polizia repubblicina come una propaganda anti-regime non aveva nessuna propaganda anti-regime ma era un parole che dicevano una cosa diversa che prefiguravano un altro tipo di ordine internazionale un altro tipo di ordinamento statuale ancora più piccole cose rapidissimamente per dire questo elemento quindi ci fu un concorso che è un concorso anche di carità e poi ci fu un aspetto fondativo che a me pare ci può aiutare anche a pensare questo aspetto è un concorso la ricostruzione del futuro un caso significativo in questo senso ci dicono gli storici quello uno schema di discussione del programma ricostruttivo di ispirazione cristiana questo è quello da Teresio Olivelli Teresio Olivelli è un esperto è un esponente dei PUF di Papina perché passa alla lotta partiziana tutto perché prende coscienza di questo cambiamento e lo fa con inuce il titanico come farà Dallianni di Ligure di iscrivere processi e programmi ricostruttivi per l'azione del paese e sarà lo stesso che farà quella bellissima attiverà quella bellissima preghiera della Pasqua del 44 della Pasqua dei partiziani tra questi cappellari che celebriamo all'inizio ai campi di montagna Signore facci i liberi conoscita meglio come la preghiera dei ribelli ribelli per amore Teresio Olivelli resta un segno di questo modo di ribellarsi non per odio ma per amore non contro non contro ma per costruire uno stato libero con la possibilità delle persone di volersi bene di vivere pacificamente insieme e così dirà con con intelligenza Donitano Mancini in un testo importante della filosofia della Farsi che e la resistenza ha un fondamento teologico oltre che essere una categoria politica e il diritto di resistere per Donitano è una delle tre quattro grandi idee generatrici che consentono al diritto della civiltà occidentale di donne autodissolversi nell'inclismo convenzionalista è un'espressione filosofica è anche difficile se volete però è molto importante l'idea della resistenza la possibilità di resistere a una legge ingiusta a non delle cose è un fondamentale che ha dato la possibilità di generare una civiltà ultimo punto al volo così perché dico che questo elemento della resistenza va rivisto e va ripensato anche come un contributo grande al percorso del paese perché questo elemento non sarà solo elemento di resistenza e di risolvenza della legge fascista è molto interessante la nostra storia di quegli anni è un uno è un unico cioè liberazione resistenza repubblica costituzione sono un unico e vanno lette insieme quando si diceva anche negli anni 60 polimizzando trovandoci su posizioni diverse anche politicamente la repubblica è nata sulla resistenza la repubblica è nata sull'antifascismo ma perché devi dire che la repubblica è nata contro qualcosa e che storia che fu così se non ti liberavi dal fascismo non potevi costruire la repubblica la repubblica era nata alla resistenza perché ha messo un valore fondativo quello della libertà io ancora oggi quando guardo la situazione politica non mi preoccupo di certo l'economia ma io mi preoccupo della parola libertà io a nessun motivo per nessun motivo vorrei finire in un sistema che magari mi risolvano i problemi economici ma se scrivo a basso pippo con gli seldo sul puro mi faccio 4 anni di confino perché questa libertà di scrivere a basso pippo io la voglio da qualunque il sistema politico che mi risolvano i problemi economici banalizzo ma ci capiamo quindi non è un valore da poco dire che è un elemento fondativo è un elemento fondativo dell'identità repubblicana e costituzionale ed è un elemento non ideologico che va svellato da quella situazione ideologica ma riportato nella sua verità storica e nella capacità di concorre dei componenti diversi di questo paese perché dobbiamo avere la capacità non solo di fare bene la storia perché le gente che le fanno hanno, come si diceva la rivoluzione dando onore e merito a chi ha sacrificato la vita per queste cose ma perché dobbiamo essere capaci di costruire il presente allora non c'è stata data una guerra per fortuna non c'è stata data la distruzione per poter motivare un convergere anche di ipotesi di libertà e di convivenza pacifica dei pochi c'è stata fatta questa situazione più in pantano più pantanosa più putri da versare diversi di altre situazioni più conflittuali ma ci sta parlando una situazione su cui dobbiamo intervenire e allora c'è davvero un senso di divinità anche nelle nostre persone chiudo dicendo questo mi è capitato un mese pari di essere vicino a Vidrea in Mosco un'iniziativa organizzata insieme dall'ambito delle Nazioni Cattoliche cioè questo posso dire perché c'era il manifesto con i due luoghi l'ambito delle Nazioni Cattoliche erano qualche prese perché ecco scusate non sono organizzata loro ci sono stato invitato a parlare e in Roma in questo posto con questo partisano Gino Pistoni un giovane di vent'anni è stato ucciso e un episodio di sanità unico con questo episodio Gino Pistoni è un giovane di vent'anni che viene richiamato per la viva di Salò è un giovane della Nazioni Cattoliche ha formatosi degli aspiranti dei giovani della Nazioni Cattoliche va in caserma aderisce la viva di Salò perché era il comando dello stato ufficiale è in tasera ma si ritrova con altri amici della Nazioni Cattoliche e la sera parlando dice cosa facciamo qui che i nostri amici sono rimontati cosa facciamo qui che passano due settimane prendono un camion lo carichiamo di armi e di notte vanno su gli si ricongiungono in cima alla Valdosta con i bar di Serno fanno saltare un ponte con San Martenio all'inizio della Valdosta ripiegano come azione e Pistoni mentre sta ripiegando nel posto dove hanno fatto saltare questo ponte si imbatte un umile tefrecista felice poteva uccidere lo poteva lasciare anche lì se lo mette in spalla e lo porta in una cacina per farlo curare questo gesto di carità gli costa perché nel ritornare indieto a sua volta viene colpito gli sparsa una gamba perde sangue e muore di sanguaggio in un valore ma prima di volire aveva uno zaino si toglie questo zaino col sangue indigendo il dito scrive una teerica che oggi siamo salvati nella cattedrale di Vene muoio per l'Italia e per l'azione cattolica viva Cristo Re pace da spirituale pace da non facilmente complessibile ma anche questo è stata la benestezza io per fare questo commento che ho detto tanti suoni in questo posto ho detto sapete perché io fino all'anno scorso ho dovuto dire queste cose da storico dal cittadino italiano dicendole da parlamentare e vedendo che cosa succede a volte nel nostro parlamento ho un brito di disagio perché non so se sempre siamo all'altezza anche a quel livello di queste pagine di storie che hanno dato la possibilità di vivere nella libertà e di costruire una pacifica e anche la convivenza delle future generazioni grazie a tutti applausi grazie a Ernesto c'è un ricordo di il partigiano 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 c'è un po' di voi sento mentre preziosi ha veramente allargato lo spazio su tutta la storia io concentro un po' così mi sta pronto e complicato sulla figura di Valerio Voltini io vi inviterò a raccontare qualcosa della vita di Voltini che mi ha trasmesso tanti anni di amicizia e di frequentazione vorrei partire proprio con una frase che molti di voi hanno ascoltato proprio al funerale di Voltini una frase molto bella pronunciata da Voltini la frase è questa avevano solo 19 anni e io tra parentesi ho scritto per la verità Voltini ne avevamo perché eri 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 24 con il figlio che aveva 23 come chiusa la parete quando fumo posti davanti a una responsabilità dei cui non conoscevamo i confini questo scrivete il momento pronuncia Valerio fece capire con voce con mossa il conturbamento dell'animo che si trasmise e qui lo ascoltava che si apriva davanti a tutti la grande avventura la grande avventura della libertà la grande avventura della libertà la conquista della libertà disse Voltini è una responsabilità che dobbiamo fare nostra ci si chiede una testimonianza che ha un valore morale e politico mi allineo proprio totalmente all'intervento precedente con queste parole Adotelli salutò come dicevo un momento fa il suo comandante partigiano per vedere Volpini morto improvvisamente come ben sapete non appena varcata la soglia dell'anno 2000 non posso ricordare Volpini senza pensare immediatamente al caro professor Adotelli che proprio qualche giorno fa ha festeggiato il novantesimo compleanno il 16 agosto egli meglio di chiunque altro ha scritto quasi da illuminanti sulla resistenza e sulla guerra di liberazione più di una volta adesso mi permetto così di parlare proprio della vita cioè delle fatti delle cose che ci hanno raccontato se almeno ci rendiamo conto anche dello spirito del mondo che si era creato perché più di una volta ci eravamo incontrati a cena con il gruppo del Marilene di Fanno assecondando un impegno interessante di Volpini Volpini ci teneva molto questa cena degli spiriti e considerava l'amicizia perché questo è l'aspetto essenziale e più precisamente la civiltà della vicinità di Volpini un bene così grande da definirlo in una lettera privata un sacramento ebbene una sera in particolare di Volpini e di inserire a raccontare infiniti episodi che ci sono presenti alcuni della serata famosa delle loro esperienze partiziane ne ascoltammo quelle testimonianze quasi increduli Volpini capo partigiano ci stava bene perché era nato capo l'ha conosciuto Volpini era un capo non discutivi nella scuola ma il mit deli proprio non riuscivamo a vederlo capo partigiano è vero che sfidava le armate tedesche con azioni che portavano diritto diritto alla fucilazione io l'ho conosciuto tardi francamente mi è sempre riuscito difficile anche fisicamente immaginando così coraggio e mi assicurai che deli scrivesse su il nuovo amico almeno parte dei racconti che sono stati quei racconti nel volume di Mero i bifani per cui si può così condividere questi aspetti anche violosi della vita e c'è un libro che è stato che è stato che è stato un libro che è stato che è stato un libro di un'ordine dell'azione cattolica presso l'ora segnalo regionale armato di tutto punto si presentò un'ordine di un'ordine e si sedette con la lezione depose le auto sul tavolo di vitra che portava sempre appresso alcune bonde a mano la voltella e altro dei bellissima è facile immaginare la faccia del pesco Mons. Leonardo del vicente del signore questo è stato raccontato e le diate si sono presenti ma l'ordine fu un'ordine di un fatto vero la mancata fucilazione che racconta in un libro postum la terra innocente e lo racconta diffusamente ma c'è anche un pezzo più breve scritto nel 1994 per famiglia cristiana e Volpini ricorderete scrive molto ironica con uno stile particolarmente bellante e allora io vi permetto di rileggere qualche pezzo perché mi sembra significativo della persona e dice Volpini scrive tra l'altro giusto 50 anni fa in una giornata tra luglio e agosto 50 anni fa questo è scritto nel 1994 quindi i nostri giorni anche in sostanza dunque 50 anni fa è vero ho contratto una non tanto curiosa riconoscenza per il gran punto sì quello che si chiama anche mais quel giorno non li aspettavo proprio e già c'erano bastevoli a pressione per essere quasi sulla linea che per fortuna avanzava erano i quattro più animosi componenti dei gruppi che si fa per dire comandavo quindi stato capo partigiano come pensavo io stavo per partire con la mia cimenta malaminata dobbiamo andare a recuperare taccolibro un imprendetore tedesco in un posto vicino a casa dove sono sfollato ma non dobbiamo andare stanotte andare in vicini sapevamo che gli ordini tassettivi sono non muoversi in gruppo no bisogna andarci subito perché i tedeschi potrebbero tornare a prendere la roda prima ci torniamo a casa che non si sa questo libro non ho conceduto questo qualcuno non sa perché mia moglie ha trovato qualche modo un po' di vinto per festeggiare non facevamo in tempo salire le scale e arrivare alla cucina che sentiva il rumore della topolino arrivando le topolino davanti alle alle armate tedeschi e quindi riuscii assolutamente a similare ve l'avevo detto disgraziato disperatamente mi misi a scappare e a mano e con un palazzo guadagnai l'angolo della casa sentendo le raffiche intorno mi affucciai all'angolo dietro una capanna alcune raffiche si agrarono intorno e con campasse mille anni sentirò quel sinistro e ho valutato rumore davanti a me dopo una trentina di me di scoperto cominciavano a filare dei Grand Tour altri film regoliosi ero convinto e altri due loris e nello che si non si si non si fossero stati uccisi erano stati scappati prima e si erano stati dei corsi di allora dice mi affiorò l'immagine di un fumetto di cino e frango nel quale uno dei due diceva cimitragono con gli abbatizzati e così fece verse poi dal profondo che più che una preghiera un'invocazione alla Madonna dell'Oretto non pronunciava non diceva parole correvo furiosamente dentro il gran bosco del Grand Tour sentendo le raffiche che facciavano le stelle ma ormai ce l'avevo fatta questo racconta abbastanza così colorito curioso altrimenti sempre in quella cena una famosa famosa cena ci raccontò quella storia dell'extraterritorialità del seminario regionale non so se la sapete ancora c'è qualcuno in qualche libro di storia e se sarà presente quando leggi scrive le storie delle notizie infondate per servito via le notizie invece vanno sempre controllate nei documenti c'è allora dice che si legge ancora che i tedeschi non fu permesso di entrare nel seminario regionale perché essendo di proprietà della Santa Sede godeva dello stato giuridico della extraterritorialità era sì di torpedale vaticano ma non godeva dell'extraterritorialità con questo stratagemma che i tedeschi fecero finta di credere così molti antifascisti furono salvati dal mio piacere ma torniamo alle parole di Volpini che Aldo Deri ha ricordato alla sua memoria ci si chiede una testimonianza che ha un valore morale e politico valore morale la resistenza disse di volte Volpini fu un fatto morale scrive giustamente il chat di e qui il professor Mosci mi mi darà una mano la rivoluzione sociale sarà morale o non sarà non c'è di mezzo ma la domanda che mi sono fatto soprattutto dopo la scomparsa di Volpini è la seguente come ha fatto un giovane di appena venti anni a capire che bisogna opporsi con tutte le forze alla tentatura fascista anche a costo della vita pensiamoci a un giovane di 19 anni che capisce che deve sacrificare la vita per la libertà adesso è facile per noi che viviamo in democrazia è possibile capire l'importanza della libertà perché la viviamo anzi forse la sottocontriamo ma con una stampa e un'opinione pubblica manipolata dal regime come capire la falsità e le aberrazioni di un potere di un potere dispotico assassino una di un'opinione pubblica per il seno del poi facile sembrano per il due le utilizzate per il due capacità interventive di capacità mi sono dato una risposta cercato ripensato ai tanti incontri con Valerio Volpini in quello studio pieno di libri di carte che faceva impressione quasi associazioni a chi ne marcasse la somma eravamo in piena contestazione studentesca c'era molta confusione qualcuno cercava di giustificare gli atti di violenza come atti di ribellione come eccessi di esuberanza giocattiva ricordo che Volpini fu molto uno dei confronti dei contestatori violenti ma soprattutto dei tanti intellettuali che con tipica proterbia irridevano coloro che mettevano in guardia contro i pericoli dei generazioni del fenomeno un giorno chiesi a Volpini in un libro da Legge per capire quello che stava facendo io ci sentavo molto colpiti e mi sfidiavano eccetera gli dissi queste testarie parole che mi ricordo perfettamente Leggi Dostoievski Nei demoli c'è troverai tutto Leggi Dostoievski Nei demoli troverai tutto Dostoievski che parla di un secolo e mezzo fa era una lista di qualità e proprio già la mia condizione è appuntura quella dei classici che ci aiutano a rendere meglio dell'uomo e le sue decisibili quando ripenso a lungo solidarizzo con il mio maestro Volpini oso ricercare una sorta di generale ideale percorso nella sua vita ricordo che mi piace ricordo che Volpini si è laureato con Carlo Po non studioso di letteratura francese ed un grande di Maritain il Maritain che fu tradotto in Italia per la prima volta dall'alora l'alto della saggiaturia di Stato non solo Giovanni Pettini era anche l'assistente della pubblica quindi in caso in certo senso quindi nel 1960 Maritain fondò insieme a noi il secolo mondiale che hanno ripetuto un secolo mondiale autore che ci fece conoscere in modo approfondito consigliandosi la lettura di questi suoi testi più importanti in particolare un malese integrale dopo la breve e buascosa esperienza politica e ragione sempre Montini e con il Maritainiano Montini secondo me providenzialmente la presenza divenuto Papa Paolo VI innominatamente lo vole dirige il più prestigioso degli giornali del mondo conservatore romano allora io oso pensare che Maritain per Fontini sia stato il pensatore che più di ogni altro pensa segnato più di ogni altro segnando la sua formazione spirituale tuttora una prova la avremo e posso dare per esempio per esempio che spero non conferma nella realtà perché lo storico padre si sta lavorando ad un testo sulla storia della vicina affano dalla resistenza in cui la presenza di colpiti emergerà in tutta la sua importanza e sostanza il tema dei nostri incontri cattolici e la resistenza e qui vi riallaccio immediatamente a l'onorevole preziosi che opportunamente ha ricordato teresio con il teresio livelli ha scritto una preghiera la preghiera del ribelli che conclude la sua preghiera con queste magnifiche parole signore ascolta la preghiera di noi ribelli della morte ribelli e rapida è importante questa espressione sintetica si ripetizia resistenza ribelli e rapida quindi io direi che non non è possibile dare una definizione più esaustiva e più e più decisiva chi ha conosciuto Volpini non ha pubblico sulla sua corte personalità e su il fatto che in tua occasione sia stata una tanti episodi anche in politica si rivolgono tra le assente infatti il nostro futuro quando partì il fine era un cento non è che era diplomatico con certe esperienze ma sempre perdita in lui lo spirito cioè l'amore era il suo profondo senso religioso della vita prometto il suo cristianese che si manifestava in tutte le sue profonde da giovanissimo capo partigiano da insegnante da voi grazie 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 Enzo Fussone è un vicino di casa io invece è sempre tutta 50 km è un vino tuttora è un messaggio molto assie abbiamo 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 un'esperienza per cui conoscenza di fatti questa sera vorrei far capire meglio la figura di Valeria che è Caterina che è qui con noi Caterina Vennarucci dottore medico da pochi mesi eccetera Caterina è data per rappresentare Fano Città dopo vediamo le Fano Città per rappresentare anche lo zio il nome Valerio quando c'è stato un incontro dedicato a quel sacerdote della Campania sui 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 consultò della famiglia Volpini quando si parla in Italia di resistenza non si può non ricordare Valerio Bottini non soltanto per le questioni nostre e martigiane ma anche perché ha dato un impulso attraverso la letteratura Valerio Bottini si matroca, fece la prima antologia dei poeti dei poeti che si erano dedicati alla resistenza erano pochi i poeti che erano scritti durante la guerra durante la resistenza Bottini scrisse perché abbiamo pubblicato in questo quadernetto che avete lì scrisse una poesia dedicata a Giannetto Dini suicidato il primo a fine 1944 quindi Giannetto Dini veniva dalla serata fette, era un giovane manese 17 anni aveva era del 27 era del 27 ecco era un giovane straordinario e poi incappò così uno scontro a fuoco con lui e un amico di Dini non lo so si erano fatti di gionieri e poi neanche possessati cucidati non tanto da parte e Valerio ha dedicato la poesia a Giannetto Dini e poi ha scritto in una rivistina che era costruire che si faceva nel 1946 a Pano ha anche una nota per ricordare Giannetto Dini poi Volvini nella sua attività di medico letterale ha curato sempre l'aspetto della narrativa resistenziale quindi dei grandi personaggi e ha portato anche lui un contenuto importante cioè la letteratura della resistenza non è soltanto una letteratura di guerra ma è anche una letteratura di incontro di comprensione dell'altro anche del delito e di comprensione del mondo dove ci si trovava dell'ambiente del paesaggio quindi rispetto dell'altro dell'uomo della persona corrispondente rispetto del paesaggio quindi era qualcosa di significativo che era dentro la sua cultura ma la cultura della resistenza certo cresce e a un certo momento si definisce attraverso i fatti resistenziali il 25 luglio mi aveva un altro greco infine aveva 19 anni e dopo due mesi arrivava 20 anni lui parte per la montagna cioè per Cantiano ma alla fine di novembre prima di compiere 20 anni e l'idea Cantiano il novembre di dicembre incontra tutti i giovani che erano già dei figli lo racconta arriva le nozioni di un ventenne non sono molte però le nozioni di un giovane che vive in un ambiente preciso sono importanti lo ha detto Enzo e direi che è importante il seminario regionale di Pavo il seminario regionale è un'istituzione di tipo universitario quindi ha un ruolo una presenza c'è gente qualificata il vice il vice direttore del seminario regionale Don Cleto Bellucci è il protettore dei partigiani e tiene le armi sotto il suo letto nel seminario regionale dialogano quindi quanto facesse adesso non lo so dire però Credo Bellucci anche quando diretti qualche anno fa ha sempre sostenuto questo ruolo della resistenza e dei giovani che andavano al seminario regionale di Pavo certamente Valerio c'era 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 Deli insomma ce n'erano e quindi lì non avveniva soltanto un incontro sui problemi ma avveniva una formazione questa tensione di cui Enzo ha detto questa formazione questo cercare di capire il cristianesimo era un cristianesimo di guerra era un cristianesimo la guerra in quel periodo ormai andava male morivano morivano familiari in guerra insomma si faceva la fame era cominciata la caccia dei brei insomma c'era una forte tensione lo stesso partito fascista che in crisi esventisce i musulmini e chiede le dimissioni lo spesso diventano va dal re e poi il re lo arresta e si va a donire il nuovo capo del governo ma è stato non è stato una vicenda una vicenda in quel momento feroce di reazione da parte di chi aveva il potere però dopo man mano quando si arriva l'8 settembre Hitler scatena la guerra libera Mussolini di far ricostituire il partito fascista e ricanda tutta la situazione dal centro dell'Italia verso il nord il vecchio potere fascista prende l'amministrazione degli enti locani e quindi crea crea la guerra civile crea la lotta crea diciamo si crea anche in quel periodo il disastro di tutte le gruppi italiane all'estero che vengono trucidate quelli che non aderivano aderivano al nazismo diciamo tutta quella situazione quindi la situazione è fortemente drammatica e la gente la gente parteggia contro il nazismo contro i tedeschi quindi quindi c'è una presa di coscienza quello quello è la resistenza del popolare della gente diciamo non aveva le armi ma aveva il giudizio aveva aveva la comunicazione quindi quel fatto era vissuto ed era vissuto in particolare che era più vicino alla gente la chiesa lo sentiva le parrocchie lo sentivano in modo specifico capito in modo lancinante polpini idee hanno questa prendono questo aspetto questa cultura sentono da vicino quello che sta succedendo dal dicembre 1943 e poi c'è il gennaio ci sono risconti ci sono le notte le notte vengono adesso il marzo avviene l'episodio di cui parla Enzo poi la storia finisce 70 anni fa come oggi come domani insomma però nel frattempo gli avvenimenti si sono ravvicinati e quindi c'è un accumulo di esperienze di giudizi su quello che sta succedendo senz'altro il giudizio è contro i tedeschi è quello che fanno contro il vicino non hanno la dimensione dell'uomo sono per contro l'uomo quindi capite in quale ambiente si era creato noi questa storia non la dobbiamo dimenticare perché è qualcosa che ci appartiene perché è stata vissuta ed è diventato sangue anche capite quanti hanno perso la vita ma fra l'altro 300 persone di nobretempo sono stati ammazzati all'alba cosa avevano fatto niente semplicemente perché era successo qualcosa che andava diciamo contro i tedeschi contro i fascisti del momento probabilmente è successo in moltissimi luoghi italiani capite Polvigli era dentro questo mondo allora era vissuto ed era un intellettuale che aveva fatto questa esperienza di guerra che poi si era formato era cresciuto accanto a Po accanto a altri personaggi ed era diventato uno scrittore poeta prima scrittore critico letterario insomma e poi impegnato politicamente nel suo impegno politico quando c'era il problema ci parlava di resistenza di guerra era sempre molto deciso a sostenere la lotta che aveva fatto in qualsiasi momento e quindi a cercare di far capire questo rapporto a questa tensione poi l'aspetto culturale questa unità di liberazione di resistenza di repubblica di costituzione sì quindi questo è maturato questo ha significato ha significato la continuità di un approfondimento fra gli scrittori è l'unico che abbia continuato a discutere sui problemi della resistenza a parlarne violenza anni 60 un libricino pubblicato dall'aeroposto nel 1963 ci sono molti interventi sulla resistenza di vari momenti dei vari periodi è un libretto importante perché parla del parla del suo impegno del suo essere in mezzo a scelte precise 1963 1957 Carlo Bo pubblica lo scandalo della speranza da Vallecchia in cui raccoglie le tensioni che si che si agitano nel mondo italiano fra la guerra e il subito il primo dopo il secondo dopo guerra nell'immediato secondo dopo guerra Bolubini invece riprende il tema della violenza partendo dalla violenza della guerra dalla violenza del fascismo del nazismo eccetera e giunge a percorrere diciamo l'itinerario che anticipa il consumismo che anticipa l'Italia del benessere eccetera è un libro piccolo ma importantissimo e quindi c'è questo diciamo questo continuare e questo puoi approfondire anche con interventi di carattere letterario sulla rivista Civitas di italiani è una rivista è una delle poche delle riviste che continua programmaticamente l'approfondimento dei temi resistenziali che Bolubini annualmente ad ogni appuntamento scrive e rivede anche la sua concezione della resistenza la arricchisce perché sempre più la resistenza è stata studiata ed è entrata nel dibattito del dibattito culturale italiano quando nel 1974 75 Bolubini lancia la rivista Leopardi qui è consigliere regionale in quel momento ed è anche presidente della commissione cultura lancia la rivista Leopardi che facevamo Trafano e Urbino questa rivista approfondisce anche dopo il primo numero 17 fascicoli formato tabloide dopo il primo numero approfondisce i temi anche della resistenza i racconti della resistenza avevamo avevamo un grande collaboratore Cristoforo Moscioni Negri come nome fanese tra l'altro fanese di nascita ecco quindi Moscioni Negri era stato capitano dei dei alpini in Russia si salva era il suo generale di conoscenza e quindi rientrano c'è il racconto del rientro c'è il racconto della drammaticità di fare la guerra insieme ai tedeschi perché ancora lo facevano insieme ai tedeschi e come si comportavano i tedeschi e gli italiani di fronte ai prigionieri sovietici i tedeschi li prendevano gli etero e non li processavano li sparavano immediatamente gli italiani spesso li portavano via e li toglievano non permettevano ai tedeschi di fare quel lavoro e chiedevano magari poteva succedere la stessa cosa e chiedevano il processo chiedevano una presa umanitaria o di umanizzazione di fronte a questi eventi è una cultura che veniva che veniva dall'Italia non era ancora la cultura antifascista però quando rientrano specialmente Cristoforo Mussolini negri rientra lui è uno dei capi che dal Cantiano copre tutta la zona dell'entroterra fino a Tavudia fino alla battaglia in Segunda è stato il comandante di Ferriero Ferriero Corbucci allora Ferriero Corbucci è un altro personaggio importante il padre del sindaco del sindaco di Rubino del sindaco di Rubino e Ferriero Corbucci è dello stesso paese di Donitola Mancini si quindi Donitola non aveva vicende partigiane perché lui faceva il seminario qui a Fargo durante il 44 però Ferriero era maestro ed era andato in montagna ed era diventato fortemente impegnato ed era un interlocutore di Cristoforo Mussolini che era capitano anche poi comandante di un gruppo di Dianni era Polpini nella zona di Fago però volevo far significare come ci sia questa partecipazione e come per esempio il campo della letteratura sia importante Cristoforo Moscioli Negri ha raccontato nei lunghi fuggili in alcuni racconti le vicende le vicende russe e le vicende anche dell'entroterra pesarese ci sono giudizi non soltanto di fatti di eventi pericosi ma ci sono giudizi sulla situazione su come pensano i soldati come pensano i partigiani su come ci si pone di fronte a un rapporto dove a un certo momento l'aspetto dominante è la morte quindi c'è un contributo un contributo importante ecco questo e ci sono anche altri scrittori Ferriero Corbucci anche lui partecipa a questa riflessione c'è il libro l'ha esposto che è molto bello e però raccolta l'esperienza di come di con l'isterbo fa come con il rapporto all'ambiente alle alle abitudini di spieti ma soprattutto del paese Camazza 7 dove lui viveva e dove avendo i primi fatti di guerra della nostra antifascista insomma diciamo c'è tutta questa tensione che anche gli urbinati vivevano e c'è questo rapporto diciamo anche Ferriero con Itero Mancini e anche l'università che Volpini frequentava a Volpino era un'università che in qualche modo sentiva la situazione della difficoltà il suo maestro era Po Po non aveva fatto il servizio a dedicare non aveva fatto la resistenza però aveva avuto difficoltà pure facendo parte del suo giustizio quando lui traduceva e parlava di Maritene Maritene nel 1936 quando inizia nel luglio la guerra civile spagnola insieme a degli intellettuali francesi cattolici laici anche alcuni comunisti fece un documento contro la guerra contro la guerra di Crociata contro contro la chiesa che giustifica una guerra come una crociata diceva Maritene che la guerra civile spagnola era una guerra di carattere politico e non di carattere religioso e cristiano questo e questo certo gli ha sconfusolato tutti i rapporti con diciamo la chiesa tradizionalista la chiesa francese e anche diciamo il tappicano però ha messo chiaro un punto e poi aveva scritto un saggio allora qualche mese dopo sulla posizione di Maritene Parcellini il direttore del Montespito non li ha pubblicati capito forse non se l'ha preso in più di tanto pubblicò nella rivista di Erosmini però insomma c'era questo portone di chiusura di fronte a quello che avveniva Poltini ha vissuto questa tensione e anche con la rivista di Eliopatia portando sempre questa attenzione a poter cercare di capire la realtà che si doveva interpretarla mettere al primo posto i valori i valori umani la dignità dell'uomo capite quindi il suo atteggiamento pur essendo un comandante di combattente era di dialogo era di comprensione ecco e questo lo ha fatto sempre e lo ha fatto anche quando è diventato direttore dell'osservatore romano siamo partiti Caterina lo ha compagliato io a Paderio primi di novembre del 1977 quando è andato a Roma e poi e poi dopo è andato da Vittorio a Santa Marta e ha fatto un po' come dire di lavoro preparatorio per l'osservatore romano novembre e dicembre 1977 poi dal primo 6 gennaio 1978 è diventato direttore dell'osservatore romano e quindi è andato con molta umiltà a fare un lavoro straordinario e allora data questa esperienza vorrei ricordarvi che l'anno scorso abbiamo dato vita a Palocittà un blog di carattere culturale specialmente poi di carattere cittadino in parte allora abbiamo trovato intanto c'era questo rapporto Dio e degli amici del circolo Valitè Giorgione e di altri e dei riguardi di Valerio e abbiamo dato vita a un festival digitale siccome in luglio perché ci sarebbe stato il 25 luglio festival digitale Valerio Volpini e la resistenza abbiamo cominciato a pubblicare dei testi di Volpini sulla resistenza dei rapporti con gli altri di studi che in qualche modo poterono aprire il dibattito sulla politica insomma di raccogliere anche delle note di archipio eccetera abbiamo avuto la nuova di Sperrazza di Angelo Sperrazza di Angelo Paolo di Roma un momento storico storico del fascismo e insomma e questa questa rubrica insieme a tanti altri temi che abbiamo affrontato è cresciuta è cresciuta e abbiamo e non è finita perché abbiamo portato documenti scritti interpretazione del fascismo rapporto del fascismo con la situazione attuale anche collegati anche a Romitano Mancini un po' a Carlo Bo a Leopoldelia di recente a Enrico Mattei con il compito e Fano Senigallia insomma cercare di capire questa antica realtà di un amico carissimo e di un testimone di Fano in rafforco anche a Noci quindi non lasciare perdere quello che succede e abbiamo trovato una amicizia prima con l'amico provinciale perché il tempo indietro avevamo progettato qualcosa e poi con l'amico di Fano che insomma già lavorava da qualche anno però ci siamo abbiamo cercato di fare qualcosa che voi potete andando su www.fanocitta.it trovate anche le vecchie registrazioni e abbiamo cercato di fare un dialogo degli eventi tutta la settimana dal 25 luglio alla fine di luglio cos'era successo a Fano per dire però abbiamo cercato di tenere alto l'impegno di uno scrittore e di una città nei riguardi della propria vita e del proprio futuro e questo con questo per dire il profilo del lavoro grazie a tutti abbiamo ancora 18-19 minuti c'è anche spazio per domande interventi a parte del pubblico prima di passare la parola a Presidente se ti vuoi parlare un minuto anche internet si può un minuto solo per ringraziare la verità per questa iniziativa per esempio di parte ringraziare l'ampio di Francia del Comissario Pesaro per questo tipo di iniziative che sono molto importanti ed è come dire il filone della nuova che non fa solo un ricordo ma la memoria attiva che abbiamo definita questa sia veramente importante rubo un minuto le cose che diceva Ronevo l'inizio concordo ovviamente non è prezioso ma ci sarebbe un punto da approfondire perché noi la resistenza la facciamo sempre a partire dopo il 25 luglio come dire c'è la caduta del fascismo l'armistizio e dall'armistizio i famosi ma famigerati i manifesti che richiamavano i ragazzi 17 anni 18 anni alle armi e ovviamente lì c'è stata la frattura traumatica la scelta la scelta di libertà era di punta quel manifesto che cosa faccio o servo l'Italia la democrazia finalmente la libertà o come tanti hanno fatto hanno adedito alla Repubblica di Salò vuol dire lì nasce ma lì nasce il momento come dire quello dell'armato chiaramente della scelta individuale di massa e collettiva ma c'è una resistenza che dura vent'anni che inizia dopo durante anzi dalla marcia su Roma che continua per venti anni che continua a faticare e lì trovo una differenza tra le posizioni cioè l'aiuto che il partigiano avrà o la resistenza avrà durante i 43 45 e le difficoltà che invece avranno quelle della clandestinità che non avranno lo stesso la possibilità di trovare persone che li aiutano infatti le carceri si riempieranno e qui c'è una differenza della massa della partecipazione in carcere cioè che un po' creerà le difficoltà però noi dobbiamo rivoluntare questo periodo fondamentale perché quando il ragazzo di 18 anni decide di aderire ad una lotta la lotta della resistenza oppure ha un atto di horrorio e un atto di ribellione trova la persona che nei 20 anni è stata a combattere cioè lo trova ed è il significato fondamentale però non lo volevo dire solo perché purtroppo bisognerebbe risalire lì non c'era una divisione sì la divisione ideologica c'era anche nelle carceri io ho seguito un lavoro di un padre di un padre mentotene perché è stato non andato a confinare mentotene dagli stritti dagli studi eccetera c'erano erano separati i confinati nel gruppo dei comunisti il gruppo degli anati cioè anche lì diceva come dire una divisione ma con un obiettivo di un amore per la libertà sovranato poteva andare sicuramente sarà poi l'elemento che avrà superato però questo lavoro io lo voglio ricordare insieme alla lotta partigiana è stato l'aspetto fondamentale della questione della carta costituzionale perché è qui che è il nostro fondamentale il contributo delle varie anime della resistenza indipendentemente dalla quantità della lotta partigiana dei comandanti partigiani dalla disposizione di quelli che hanno seguito cioè dalla differenza culturale politica ideale da dove la si vede che c'è il superamento nella realizzazione della Costituzione non solo nei momenti delle lotte durante la lotta partigiana ma è proprio lì che si ha la radice e allora era un polemissimo detto un minuto solo per richiamare l'attenzione perché la valorizzazione del lavoro e dell'impegno che va al di là della questione della separazione è stata un periodo in cui la Tifra se ne è fatta come dire orgogliosamente è nostra la resistenza è un'altra parte che invece ha cercato è stato un errore per tutti quello è stato un errore per tutti che ha ancora oggi io penso noi paghiamo questo quando noi dobbiamo andare nelle scuole e andiamo nelle scuole a parlare della resistenza e a parlare dei lotte partigiani ci troviamo una in preparazione dei ragazzi quasi a dire sì se si arriva forse sì e no riusciamo a spiegare molti insegnanti sono in difficoltà su questo ci chiedono aiuto ma questa situazione è frutto di quel conflitto che allora ci fu e che possiamo insieme tutti insieme recuperare e che io spero che riusciamo a recuperarlo fino adesso proprio in momento sociale di difficoltà in cui viene vista alcuni pezzi nella prossima questione che invece dovremmo ripristinare tutti insieme quell'orgoglio di appartenere e che lavora costituzionalmente ovviamente non voglio parlare su una polemica su queste questioni ma io spero che tutti insieme ci sono insieme tanti abbiamo discusso che discuteremo in queste questioni costituzionalmente tutti i giorni prossimi a discutere anche come far applicare una costituzione le condizioni applausi 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 altrimenti domande passiamo un po' a te allora intanto io ringrazio il circolo maritene e tutti gli interventi perché questa sera si corona una mia vecchia aspirazione che io avanzai nel 2006 quando diventai presidente dell'altra provincia lo dissi a Giancarlo e a chi come come proposta quella di creare un evento su su questa grande figura che determina una diciamo così è una figura no ma ma è una figura che funziona da ponte tra tante culture tra tutte le culture e poi spiegano perché voglio dire Brutini appartiene a una corretta del cattolicesimo loacentesco che testimonia il leggero il senso etterodosso rispetto ai sovieti quindi va a finire nel concilio del 1963 ma è come un film sotterraneo perché già c'era tutto quello che si dirà nel costituito del 1963 era già presente nella eroporazione nel pensiero di tanti esponenti cattolici faccio i nomi che sono don mazzolari padre david maria turoldo don milani don mezzoni valducci che lo seguono e poi altri che ho dimenticato e sono questi guardati con sospetto sia dalle autorità dalla gerontia cattolica sono guardati con sospetto e anche dal governo del momento che vede una diciamo una uno spostamento d'accento delle tematiche che lo disorienta rispetto ai temi del momento e quindi vengono mosteggiati uomini che per la loro ortodossia sono guardati con sospetto sia dalle superiori che dalle forze degli ordini la luce che li illumina è relativamente vicino sta nell'opera e nel pensiero di un uomo di Giuseppe Toniolo due grandi figure del primo novecento un sacerdote della bassa narca figlio di possidenti che si si batte contro e non è esperiente del papa e propugna un impegno diretto un impegno fattivo un impegno chiaro dei personale dei cattolici e l'altro è Toniolo che viene tarmantovano e che capisce anche lui che i cattolici devono avere un'organizzazione politica e perciò fondano sia le leghe bianche nel 1913 o giudillia adesso sia i sindacati e le cooperative come anche la prospettiva di una nuova economia della solidarietà allora che cosa sono questi cattolici ci sono dei costanti e sono costanti che si ritrovano in moltini e si ritrovano in tutti questi esponenti che ho menzionato che agiscono separatamente in altri contesti forse senza del milio con o essi ma che hanno un min denominatore comune che è questa la difesa del lavoro come dignità della persona umana e quindi toniolo la lotta alla povertà il dialogo alla pari con i lontani questo è di Don Mazzolari ma è anche di Turoldo i lontani sono ovviamente gli altri sono comunisti sono socialisti sono quelli che hanno un'altra cosa ma un'altra idea un'altra teoria una versione del mondo e ultimo in tutti la pace come realizzazione della solidarietà evangelica cioè non si può vivere nella guerra e realizzare la pace e realizzare la solidarietà tra un uomo e un altro uomo la qualità che gli ha in comune e l'antifascismo sono rigorosamente antifascisti molti partitoriano alla resistenza però ecco e qui sono d'accordo con preziosi io ieri non ieri l'altro ieri sono stati 22 a Cagli a celebrare la liberazione di quei paesi ebbene c'era una cultura dell'antifascismo praticato negli atti quotidiani di tutti i giorni che era di tutti i cittadini ci sono dei giusti fra le nazioni io lo sapevo ci sono delle persone che hanno salvato ebrei che hanno testimoniato la loro vicinanza ai partigiani cedendo le loro case facendo la loro logistica facendo servizi di locazione quei 12 15 uomini o donne per ogni esponente per ogni miliziano armato ecco erano e quindi c'era questo c'era una cultura una cultura che si esplicava in queste forme quotidiane di sovredenza civile si diceva che non date ospitalità ai remittenti alla leva e si dava ospitalità si diceva non ospitate agli ebrei e gli si faceva andare via e gli si organizzava la fuga e si diceva non ospitate i prigionieri rifugiasi e e si ospitava quindi c'è tutto questo che testimonia che c'era un atteggiamento mentale che era sedimentato nel tempo e che in parte ecco mi diceva dell'olio perché c'è un'avanguardia politica che fa il confino che fa la 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 prigione e poi dopo elabora delle leonie elabora anche dei modelli di organizzazione mentre mentre oltre questo ci sono le ci sono i cattolici che partecipano quindi con modalità squisitamente loro Don Mazzalari per esempio sebbene non abbia mai partecipato direttamente a scontri armati viene insinito dall'ambito provinciale di Cremona ed era attestato di partigiano combattenti perché ha aiutato i partigiani ha fatto il rfruttamento li ha ospitati li ha curati li ha fatti fuggire e quindi anche questa è una modalità di esprimersi in atti di guerra di esprimersi con atti ostimili di confronti di modellità e Turoldo per esempio usa la corsia dei serbi il convento dei serbi di Maria a Milano per pubblicare un giornale che ha per titolo che è stata l'uomo e quindi questo la dice lunga su quella che è la concezione dei dei cattolici progressisti dei cattolici orientati nel sociale in quel momento che però non è da quel momento già nel seminario erano così i paducci è un il figlio il dominatore della miata e partecipa alla resistenza anche da seminarista ma non necessariamente con atti armati partecipa partecipa ai paddò a nascondere partecipa informando partecipa facendo uscire facendo fuggire eccetera tutto poi in questo contesto si inserisce Valerio 1943 si si rega alla caserma Paolini di Mano per appropriarsi delle armi che può portare via di quante può portare via e quindi questo poi il fatto che loro abbiano diciamo questa tendenza al dialogo con i lontani come dice ma Zolari non deve far presumere una loro arrendevolezza nei confronti degli altri giusto per trovare un accordo invece sono tutte persone molti in grigis per quel popolo che io l'ho conosciuto è un intransigente terribilmente intransigente con se stesso e quindi il 27 invece il 27 dicembre del 1943 si rega a Cantiano per fare parte della brigata Garibaldi di Pesaro che si sta cominciando a costituire il fatto è riportato nel libro Cronati Partigiani di Francesco Lupatelli partigiano cantianese che poi è stato assessore a Pesaro è stato un dirigente comunista alla federazione di Pesaro lungamente è stato negli enti locali nelle municipalizzate e Lupatelli parla di Valerio Ortini come di un capace di uno che ha attitudine a dirigere e a comandare non a comandare a dirigere e quindi lo mandano lo mandano proprio a Fano perché il comando di brigata rappisa la la soluzione migliore nel rispedirlo a Fano e nel fare l'organizzare la resistenza qui è l'ordinante Giuseppe Tommasini del Ciacondo un reduce del conflitto civile spagnolo che è il commissario politico della Garibaldi ed è un comunista ed è lui che manda Volpini a dirigere ad organizzare la resistenza più affanti il resto è conseguente sia Volpini che tutti i personaggi manterranno in tarda fino all'ultimo della loro esistenza il loro cattolicesimo sociale e la loro impronta di uomini forgiati nel tempo durissimo della guerra e della solidarietà e poi volevo dire un'altra cosa che la resistenza ecco fino a questo momento si è intesa come la resistenza del come lotta armata abbiamo già detto che non è il solito ma c'è anche la resistenza di Ciacondo massimamente il suo destino ma si rivela come quelli a cui ha accenato fugevolmente Moshi i limiti i cosiddetti limiti gli internati militari italiani che solo 615.000 vengono presi prigionieri 615.000 e portati in tutti i campi di concentramento e vengono qui a farlo avevo conosciuto uno di questi un personaggio che si chiamava Baldelli e che faceva l'ispettore un direttore di dati che tornarono un anno dopo che evitano la liberazione il 25 agosto del 45 io parlo perché loro il 5 maggio del 45 furono liberati dagli aleccani dei russi nei vari campi di concentramento nei quali erano inchiusi e tornarono un anno dopo quindi c'è anche quello e del resto Alessandro Nata il segretario del PC per un brevissimo tempo raccontò anche lui la sua vicenda di internato nei lager nazisti e scrisse un libro a cui viene il titolo di l'altra resistenza quindi è un fenomeno molto composto un fenomeno culturale un fenomeno morale è stato detto e questa è la cosa più profonda e più significativa che emerge da tutto il confronto che c'è stato in questa serata morale e accumulativa e quindi è questa la nostra missione quella del recupero di questa visione morale del mondo e che per dirla con Bertus Brecht in cui l'uomo sia amico all'uomo grazie a tutti i nostri amici redattori voi siete benvenuti e ringraziamo Rampi per aver organizzato questa iniziativa faccio uno spot finale chi di voi che desidera magari approfondire il tema della cultura cartonica e l'esistenza un saggio cultura cartonica e l'esistenza dell'Italia e l'Ultana è dito dall'Ade è un sogno parisella che approfondisce questo tema e magari può essere molto bene il tuo miaggio sì sì è dito dall'Ade e l'Italia esistente cioè no l'Ultana 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 l'Ultana